Una bella notizia per i nostri palinsesti, riprende domani, domenica 26 febbraio, la trasmissione sportiva a tutto campo. Riprende attorno alle 20 circa, subito dopo, la diretta che vede protagonista la Dolomiti Energia Trentino. Dopo una sospensione di qualche settimana, la squadra capitanata da Alessio Kaiserman torna dunque più forte che mai, la vedete in queste immagini. Bentornati dunque ai colleghi della redazione sportiva e in particolare un bentornato da Alessio Kaiserman che torna in forza alla nostra redazione.